Un oceano di acqua potabile sotto il territorio africano dal cielo alla terra. Un oceano di acqua potabile sotto il territorio africano. Uno studio scientifico lo dimostra. Dal cielo alla terra. Setun Senar comunica. Un nostro fratello della luce, tramite il messaggero del cielo Eugenio Siragusa, aveva comunicato alla vostra scienza una importante scoperta scientifico-geologica riguardante la sopravvivenza di una parte dei vostri popoli che soffrono la sete e la siccità. Questa indicazione vi fu data nell'anno 1985 del vostro tempo, ma la vostra scienza senza coscienza, come al solito, coordinata da scienziati corrotti al servizio del potere tirannico, ha ignorato completamente questa preziosa offerta indicata dal nostro fratello di luce chiamato da Eugenio O'Hara. Adesso, ancora una volta, siete costretti a prendere atto delle nostre esatte previsioni e delle nostre perfette ricerche scientifiche. Peccato, il rammarico e la commiserazione, che proviamo per voi sono tutte nostre, ma vostre sono le responsabilità, vostri sono i reati dei quali dovrete rispondere molto presto al Tribunale Celeste presieduto dal Giudice Supremo Gesù il Cristo. L'acqua azzurra nel sottosuolo del meraviglioso continente africano sarà certamente disponibile per gli abitanti della nuova era i giusti, i beati, i puri di cuore e i bambini, pargoletti della vita pace. Setun Cenar saluta. Montevideo Uruguay 21 aprile 2012 Giorgio Bongiovanni stigmatizzato